Una Triestina ferita arriva in Rival Savio contro un Cesena invece rinfrancato dai primi tre punti stagionali incamerati a Verona. Out e Russini, la novità di giornata sarà l'esordio in campionato di Giuseppe De Feudis al posto di Franco bloccato da una distorsione alla caviglia. Ma Beppe non è che abbiamo l'enche di esordio. Beppe ha vinto cinque campionati qua, quindi esordio. Per lui è come se fosse a casa sua, quindi è tranquillo, è sereno. Un confronto con gli alabardatti che manca da una decade quando in Serie B i bianconeri vinsero 4-1. Davanti ha un valore importante perché c'ha non solo i quattro che giocano sempre in avanti ma ce ne ha altri quattro pronti ad entrare. C'è una squadra comunque di giocatori di età superiore, quindi hanno un'esperienza importante. È una squadra furba, intelligente, che gioca anche ai buoni ritmi, sa giocare, hanno individualità importanti. Quindi noi dobbiamo essere bravi e preparati a gestire i momenti della gara, quello che a tratti ho visto anche contro la Virtus Verona.